Direttore allora due questioni, parto dall'ultima, la scomparsa della questione mezzogiorno dall'agenda politica nazionale ricordava De Luca e per poi tornare a quello che è stato il titolo di testa della trasmissione di questa sera un S.S. al capo dello Stato Sergio Mattarella dopo sabato e soprattutto alla luce di quello che si è detto sabato Ma io partirei da una considerazione, cioè cercare di capire al di là delle cose che sono accadute a Roma e che per alcuni versi vanno anche cancellati, l'abbiamo detto subito, De Luca dovrebbe chiedere scusa, formalmente scusa alla Meloni per quella parolina, anche se abbiamo detto e lo ripetiamo, chi ha provocato De Luca in malo modo è stato proprio la Meloni offendendo 6 milioni di cittadini della Campania perché li ha offesi, ha detto in buona sostanza che qui dormiamo, che qui non fatichiamo e per questo creiamo soltanto disordini insomma un Presidente del Consiglio che dice una cosa del genere dovrebbe stare un tantino più attenta ma molto più attento dovrebbe stare un altro signore di Fratelli d'Italia che è il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, attenzione non è l'ultimo arrivato ed è il senatore Gasparri il quale a proposito di De Luca e di quando è accaduto dice, leggo tre righe dell'Ansa, credo che De Luca abbia bisogno di una cosa urgente in primo luogo una visita medica che ne accerti le difficili condizioni psichiche che forse gli potranno risparmiare conseguenze penali per le sue parole ma potrebbero comportare la sospensione del suo incarico che non è palesemente in condizione di svolgere visto che lo sta, visto lo Stato in cui si trova. Ora, noi abbiamo ascoltato poco fa De Luca non infuocato, non incazzato come stava a Roma giustamente visto che dopo 15 mesi il Ministro Fitto del governo Meloni non manda alla Campania i soldi che non sono di Fitto che non sono dello Stato centrale, che sono destinati per legge al Sud e alla Campania quindi ben l'80% dei fondi di sviluppo e coesione. Ora, questo è il fatto. Abbiamo ascoltato De Luca parlare con gli studenti di un liceo con calma e ha esposto con calma le ragioni che per 15 mesi ha esposto con calma senza essere ascoltato. Ora, vi pare ascoltando questo De Luca, che è il De Luca poi di sempre, che si tratti di una persona che ha bisogno di una visita psichiatrica, questo dice in effetti Gasparri, insomma siamo a questo livello e un livello davvero molto molto basso, cioè siamo nella fogna della politica e quando si parla di comportamenti purtroppo squadristi perché in questo modo si stanno comportando taluni signori di Fratelli d'Italia, una ragione c'è ed è una ragione fondata. Il problema, per tornare alla denuncia di contro risorgimento a cui accennava De Luca, il problema esiste davvero perché l'autonomia non lo vogliono spiegare, forse non lo sanno spiegare nemmeno per la verità, l'autonomia differenziata immaginata da Calderoli, dalla Lega è sposata, recepita dal governo Meloni, quindi anche da Fratelli d'Italia e quella vorrei dire al senatore Gasparri una cosa devastante per il mezzogiorno, evidentemente non l'hanno capito, io comincio a ritenere che non l'abbiano capito, probabilmente non hanno voluto capirla, ma è questo il tema e allora andare da Mattarella, chiedere al Presidente della Repubblica, che è sempre rimasto una delle poche persone serie che abbiamo in Italia, nella politica italiana, chiedere a Mattarella un dialogo, chiedere a Mattarella udienza per spiegare, probabilmente è l'ultima strada che resta al governatore De Luca, perché vedete il problema è molto molto serio, ma vi pare che dobbiamo sentire che la Campania è l'unica regione tra tutte le regioni d'Italia, secondo il racconto, la narrazione che ne fanno la Lega prima, ma oggi purtroppo Fratelli d'Italia e questo sorprende moltissimo, che è l'unica regione che non si adegua alla dialettica giusta, è l'unica regione che protesta, non è così, la Campania protesta perché non ha avuto quello che deve avere da 15 mesi e questo è il tema, le altre cose sono purtroppo materia distrattiva, volgarmente distrattiva, sono queste le cose da censurare, non certamente le cose che dice De Luca. Un lapposissimo mio, parlando di Gasparri ho detto che è capogruppo di Fratelli d'Italia, non è assolutamente così, è stato un lapposissimo molto molto banale, è il capogruppo al Senato di Forza Italia, ma d'altra parte per come si stanno mettendo le cose, anche se fosse stato di Fratelli d'Italia, sarebbe stata la medesima cosa, dicono esattamente le stesse cose, non utilizzo l'epiteto utilizzato da De Luca per non rimbangare le polemiche, ma dicono appunto quelle cose là.